... Signore e signori, per motivi di sicurezza vi mettiamo ad allacciare le citture e chiudere il tavolino oppure lo sinale del poltrono in posizione verticale, mantenere i braccioli avanzati e le termine e le finestrine aperte. A questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti. Durante la fase di crociera sarà possibile utilizzare il telefono cellulare, smartphone e tablet e solo selezionando ora la modalità d'uso aereo. Vi ricordiamo che non è consentito fumare a bordo dei nostri aerei, compresi nel paletto dove sono localizzati negli elevatori di fuori. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti